Si rinnova a Teramo l'appuntamento con la Fiera di San Berardo, appuntamento che dalle 8 del mattino fino alle 20 di sera propone in tutto il centro storico la secolare Fiera Mercato tipica della tradizione cittadina. Novità di quest'anno, la prima mostra a mercato del dolce natalizio da forno. Domani parte la Fiera di San Berardo che è un appuntamento istituzionale, quest'anno in collaborazione con la Confcommercio e poi c'è l'inaugurazione dello stand dei dolci da forno, la prima mostra del dolce da forno natalizio Teramano a Piazza Martiri. C'è questo stand, anche lì in collaborazione con la Confcommercio e con i panificatori abbiamo scelto di dare importanza ai nostri prodotti tipici. Sabato pomeriggio ci sarà la Peristreet con una formula rinnovata perché abbiamo scelto di dare importanza anche agli esercizi pubblici di Corso De Michetti e Corso Cerulli quindi davanti a quasi ad ogni esercizio ci sarà un live fino alle 11 e mezza, una band live in collaborazione con Fare Musica e con Francesco Marcellini abbiamo fatto un percorso di concerti che poi alle 11 e mezza convergeranno in Piazza Martiri con l'evento classico della Peristreet con la console e il DJ. Negozi aperti fino a mezzanotte? Sì, io prima di tutto voglio ringraziare gli esercizi pubblici perché hanno collaborato con noi anche con un versamento economico con i quali noi andremo a pagare le band, andremo a pagare la SIAE rimangono aperti fino a mezzanotte perché secondo me è un'occasione per loro di fare affari. Grazie.